Sì, è filmato. È filmato. Ma farò quello che faccia dal pilone. Mi faccio vedere fino a 4. Ma qua non ci sono. E' alto? Ma come non ci sono piloni? No, ci sono piloni. Va giù fino in basse. Non ci sono piloni. Anna? Mi dispiace. Non c'è. No, è video. Si è toccato un orecchio. Anche a me si è toccato l'orecchio. Facciamo una seggioria. Ti dispiace che non ci sono più piloni. Che non ci sono più? È il pilone. Direi che... Wow. Ho orecchie chiusissime, porca miseria. Sam, non ti sento. La mano di Sam. Sam, non ti sento. Sam, non ti sento. Sam. Beppe esplode. Wow. Wow. Siamo arrivati. Allora finisco.